Oggi avrei dovuto recarmi ad Acerra per sostenere la fede di quella popolazione e l'impegno di quanti si adoperano per contrastare il dramma dell'inquinamento della cosiddetta terra dei fuochi. La mia visita è stata rimandata. Tuttavia, invio al Vescovo, ai sacerdoti, alle famiglie e all'intera comunità diocesana il mio saluto, la mia benedizione e il mio incoraggiamento in attesa di incontrarci appena possibile. Ci andrò, sicuro. E oggi anche il quinto anniversario.